Alla Teco Corte Auto Corte Maggiore è bastato impattare 3-3 lo spareggio con Eppan Bolzano per accedere alla finale scudetto di tennis tavolo femminile contro Castelgoffredo, gara 1 domani alle 19 in Lombardia. A decidere è stato il miglior piazzamento delle ponghiste maggiostrine al termine della stagione regolare, secondo posto contro sesto. Così, in situazione di perfetta parità, la Teco ha centrato la quinta finale della sua storia e ora si prepara a lottare per un'impresa vera e propria, dato che Castelgoffredo, campione in carica, parte con tutti i favori del pronostico. Lo scudetto di Serie A1 si assegnerà al meglio dei cinque incontri. È un play-off incredibile, tutto nato in salita dopo un campionato impeccabile, giornata da dimenticare a Bolzano sotto 4-1 e poi abbiamo ribaltato un risultatone, un'impresa pazzesca, non difficile e appunto è che è partito tutto dalla racchetta di una nostra sedicenne, è fantastica questa cosa qui. Arianna Barani ha fatto un punto decisivo per questa rimonta. sull'altra sera è stata una partita tutta nervi. La differenza in quella sera, l'altra sera l'ha fatta chi è stato più razionale, chi è riuscito ad entrare nel gioco dell'avversaria con decisione ed è stata a Ghana farla a Dansk. È stato molto difficile, come sta sempre quando giochiamo al play-off, è più difficile di stagione regolare, ma io conosco queste ragazze contro chi ho giocato. Conosco bene, quando ho giocato ho provato a giocare con testa libera, lo sapevo cosa devo fare e ho provato a giocare il mio gioco. Non è stata una passeggiata a portare a casa questa semifinale, ma devo dire che abbiamo dimostrato una cosa molto importante, di essere un team e spero proprio che in finale possa essere questo l'elemento in grado di fare la differenza. Abbiamo i mezzi per poter sorprendere Castelgofredo. Nella regular season abbiamo chiuso dietro di loro, ma arrivati a questo punto non abbiamo nulla da perdere e ce la giocheremo fino alla fine.